viaggio nella detenzione al femminile in campania mostre dibattiti visite nelle carceri un vero e proprio viaggio nella detenzione al femminile per far conoscere l'universo carcerario, le sue storie, le criticità ma anche le buone prassi ma soprattutto per sostenere che non ci siano più bambini in carcere è l'iniziativa del garante dei detenuti della regione campania Samuele Ciambrillo presentata in consiglio regionale della campania insieme all'assessore regionale alla formazione professionale Armidia Filippelli a Paolo Siani che da deputato del PD nella precedente legislatura ha presentato una proposta di legge per destinare le mamme detenute con i loro figli a case famiglie protette presente anche l'imprenditore della Palingen Massimo Telese la cui azienda è coinvolta nel progetto e a fare gli onori di casa ovviamente il presidente del consiglio regionale Gennaro Oliviero Chi non ha colpa non deve stare in galera, questa è la logica, abbiamo chiesto a Paolo Siani di venire qui è stato il promotore di una passata legislatura, abbiamo chiesto di ricevere da lui la sua proposta di legge per farla noi come in consiglio regionale La mattina inauguriamo pure una mostra di tanti abiti fatti da una sartoria che attualmente nel carcere di Pozzuoli che si sta trasferendo all'esterno, mano a mano che queste detenute scontano la pena passeranno a fare le sarte fuori dal carcere in un locale qui da parte delle vie dei tribunali e sarà per loro una prospettiva di lavoro e guadagnare l'autostima che è una cosa importante per tante donne Nell'occasione è stata inaugurata anche una mostra fotografica dal titolo Senza Colpe a cura di Anna Catalano che ritrae la vita che i bambini vivono con le proprie madri negli ICAB ovvero gli istituti a carcerazione attenuata per madri Presenti in mostra anche abiti artigianali realizzati dalle detenute della casa circondareale femminile di Pozzuoli assunte al lavoro proprio dalla Palingen ma ascoltiamo il garante dei detenuti della regione Campania, Samuele Ciambrillo Da oggi ho voluto con una serie di iniziative far partire l'attenzione sulla detenzione al femminile attirare l'attenzione su questo tema significa mai più bambini in carcere e io lancio un appello ai consiglieri regionali, deputati e senatori a visitare gli istituti femminili come il carcere di Pozzuoli, nel carcere di Lauro per verificare di persona, cioè contatto, vieni e vedi questo è importante perché va fuori anche un pregiudizio le mamme hanno sbagliato, hanno perso la maternità, il cattivo esempio per i figli certo se uno va in carcere per un piccolo, medio grave reato ha commesso un reato ma dire mamme, far vivere la maternità in carcere bambini innocenti, questo è troppo